Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Daniel e questo video è speciale come avete già letto dal titolo giocheremo a Clash of Royale e vi lascio al video tra poco ci vediamo bye bye eccomi ritornato ora aprimeremo un baule vediamo cosa uscirà oro, Claudio Abisio Goblin Lanceri e il Cavaliere che ci è utile andiamo a prendere l'altro oro più 50 5 gemme un Goblin per 5 principe è buono ora ci metteremo questo è il mio Mass abbastanza minimi pecca no il Goblin non abbiamo abbastanza soldi se vogliono 20 soldi ci vogliono 120 io ne ho solo 102 possiamo potenziare possiamo potenziare potenziare potenziamento Goblin potrebbe essere 3 2 1 potenziamento più 4 gemme potenziamento Claudio Abisio eccolo qua eccolo qua il Goblin di livello 5 più 10 nella nostra esperienza ora andiamo a fare una tanto vi voglio far vedere il mio mazzo e intanto quello che costa poco sotto il muschettiere che potrebbe farmi utile il mio R1 l'ho appena iniziato ho iniziato per voi però sono a livello 4 un 0 di oro 4 gemme questo è il mio mazzo con un frecce con bombarolo con cavaliere con Goblin Lanceri con strega epica con Claudio Abisio e con i pecca vi farò un attacco e se questa serie vi piace lasciate un bel pollice in su e le farò un'altra ora ora iniziamo mettiamo un avversario quando arriverà ecco qua è arrivato contro un vabbè qua cosa fa con la luce il mio amico mi piace eh mi piace metterci metterci aspettiamo un pecca qui facciamo un artino un pecca di qua mi lascia l'accesa fermo si vede così questo dai pecca buttala giù si una torre buttata giù aspettando che la strega la mettiamo subito qua la strega dai strega fai vieni buttà vieni strega aspettiamo l'elizir aspettiamo l'elizir ok è messa la strega ecco la capanna goblin ora aspettiamo il cavaliere il cavaliere pecca cazzo mettiamo un goblin tarciuri cazzo allora vediamo cosa possiamo fare stiamo aspettando qualcuno intanto vedrete cosa butterò bombarolo mettiamo qui subito un cavaliere per fare un po' di danno alla torre un pecca e si fa comandare cazzarola mettiamo la strega strega freccio sbagliato ho messo le frecce che non si aveva un cazzo metti la strega metti la strega cazzarola dai si può andare a comandare dai 30 secondi porca voglio occhio mettiamo un cavaliere 30 secondi restanti dammi un pecca dammi un pecca dai 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 porca puttana non riesco a mettere l'arciere non riesco a posizionare ecco la strega andiamo con la strega dai bombarolo claudio pisio no non metto claudio pisio no cosa cosa mi sa perda suddente mettiamo un pecca qua di l'arcieri facciamo il danno così eccoci eccoci possiamo fare il casino di danno ecco 3 stelle 3 stelle allora e ciao a tutti i ragazzi vi lascio vi lascio e ciao 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 ciao